Mi avevano scritto, ma sia sui security, certo l'avevano scritto sui vari canali o anche su, mi avevano scritto in privato, su Pentestimate Simple, di fare delle live o comunque di partire da delle basi con Python, ma non delle basi con Python tipo, cioè proprio le basi quelle del core di Python, ma ipoteticamente per esempio come approcciare per scriversi una automation in Python magari per fare, non lo so, bug bounty, penetration test. E quindi potrebbe essere un'idea quella di partire oggi, di iniziare a vedere quello che ipoteticamente potrebbe essere, no? Quello di come buttare giù un'idea per iniziare a farci un'automation, che poi la faremo man mano, metteremo il codice su GitHub, ovviamente il codice, partiremo da delle cose basilari per poi crescere sempre di più, non lo so, inizieremo a fare magari del subdomain brute force, un classico tipo con una wordlist. Poi man mano magari andremo a prendere, utilizzeremo delle API key, utilizzeremo security trails e altri, o CRTSH, ok? Quindi questo discorso qua. E poi andremo magari a scriverci qualche scanner del tipo come posso trovare, non lo so, XSS, local file inclusion, o questa roba dicendo, ok? Ok? Non lo so, penso che potrebbe essere una cosa interessante. Oggi è solamente un test di prova, ok? Semplicemente perché ci stava. E quindi niente, questo vorrei andare un attimo a capire quello che potremmo fare, quello che ci potrebbe interessare, quello che ci potrebbe piacere. Visto che comunque il bug bounty sembra che sia una cosa che possa piacere a tanti, e quindi partirei da delle basi affinché, altrimenti se partissi già da qualcosa di un po' più strong, un po' più hard, magari, non lo so, magari a tanti non potrebbe interessare, o magari non sarebbe molto, come posso dire, understanding, ok? Capibile. E quindi partiremo, tipo, non lo so, utilizziamo request, delle regex, vi dicendo. Boh, vediamo, non lo so. Vediamo che cosa avviene fuori in questa piccola live. Allora, io non lo so se la chat funziona. Madonna, guardate che bellissima chat, che bellissimo log, che bellissima layout, vorrei dire, di security chart. Quello che possiamo fare è, innanzitutto, possiamo già passare, vorrei dire io, alla slide successiva, così ci organizziamo. Allora, vediamo innanzitutto qua un attimo in chat. Oh, eccola qua la chat. Solo lei, ecco il problema mio. Sì, frate, probabilmente, forse all'inizio, perché avevo magari anche il Twitch, quello di security chart aperto, quindi potrebbe essere che quei pochi secondi tu abbia sentito un po' di eco, però, insomma... Poi, questa musica trappona, che, insomma, vediamo un attimo di cambiare, perché diciamo che non è proprio il massimo, questa musica. Vediamo una musica magari un po' più tranquilla, tipo da, tipo, non lo so, da vlog o... Ecco, dai, Tom, magari questa qua potrebbe essere già anche più decente. Ok, ciao Rocco, dottore, mamma mia, oggi si invertono le parti, ma anche per poco, domani ci sei tu, quindi ti vengo assolutamente a sentire. E niente. Allora, io direi che possiamo spostarci dall'altra parte. Vediamo, vediamo, vediamo qui, se possiamo fare una bella transition. E voilà, mamma mia, quanto spaccano queste cose, io... non lo so. Cioè, troppo bello. Mi emoziono un sacco quando ci sono queste... queste transition. Ok, allora, direi che possiamo partire, io vedo anche la chat, vedo anche la live, perfetto. Quindi, in qualsiasi caso potete... potete scrivermi, potete scrivere in chat e via dicendo. Che cosa partiamo? Allora, io ho messo la classica OASP, quella di Metasploiter, la Mutility, ma semplicemente perché la possiamo utilizzare come test, no? Per iniziare a buttare giù qualche codice, qualche piccolo codice, ok? E poi, man mano, inizieremo a scriverci il nostro scanner, principalmente web, ok? Quindi, quello che vorrei fare oggi è partire magari con una piccola intro di come ipoteticamente uno può fare subdomain enumeration, ok? Feci un video tempo fa, lo feci in bash, possiamo farlo in python, ok? E' roba molto basilare, che però sicuramente ci può interessare. Quindi, perché no, andiamo a scriverci un crawler, no? In python. Poi magari in questo crawler che cosa facciamo? Possiamo fare un crawler che ci possa fare subdomain enumeration. Possiamo fare un crawler che ci possa fare directory, brute force. o vorrei dire qualche tipologia di attacco. Ho sentito gente dire in italiano attacco trasversale e quindi è una nuova parola che ho imparato perché non l'ho mai sentito tradurre directory traversal e quindi, no, scherzi a parte. Quindi ho preso questa ma veramente possiamo fare esempi, magari, ecco, perché no, qualche magari più avanti quando butteremo giù delle date, tanto sapete che io vado in live quando voglia, butteremo giù delle date e possiamo andare a fare anche del bug bounty, ok? Prenderemo uno scope, un target, magari, non so, che possa essere un senza bounty, ok? Quindi un vulnerable disclosure, possiamo prendere ford o qualcos'altro e possiamo fare magari bug bounty e utilizzare i nostri Python script, i nostri script in Python che andiamo a creare, ok? Mi dica, mi dica, dottore, cioè, lei può tutto quello che vuole, assolutamente sì. Lei può fare tutto. Mi dica, dica, dica. Un directory scan, nel senso, hai bisogno di un tool che lo faccia già o... o un tool, o vuoi farlo. Notavo che con i tool in stile GoBuster la cpv va a cannone sul target. Eh, potrebbe essere che vadano a cannone sul target perché usano Python con la concurrency, potrebbe essere. Ah no, però GoBuster è scritto in Go? Vediamo. Potrebbe... no, no, GoBuster è scritto in Go, dai, cavolo dico. Eh, sì, sì, GoBuster è scritto in Go. Beh, è strano perché comunque Go dovrebbe essere... Facendo qualcosa in Python potremmo alleggerire? Oddio, beh, sicuramente quello che facciamo, che faremo, che facciamo noi, sicuramente sarà molto più easy, ovviamente. Ci sono tool tipo come, non lo so, come nuclei o fafo, altre robe che sono favolose, cioè, sono proprio fantastici. Però, insomma, ecco, cioè, ovviamente non ha l'altezza di questi, però, insomma, man mano possiamo partire dalle basi e ogni volta possiamo migliorarlo. Però, facendo qualcosa in Python potremmo alleggerire. Perché no? Perché... perché no, direi io. Oddio, cioè, ci proviamo, possiamo provarci. Possiamo provarci. Ecco, quello che possiamo fare è questo... Passiamo, partiamo con una cosa basilare, easy. Magari, la prossima sessione lo facciamo in concurrency, mettiamo a paragone, vediamo la differenza. Potrebbe essere una buona... potrebbe essere una buona... una buona strategia, una buona... una buona via per... per verificare. Sì, beh, comunque, ecco, ovviamente, cioè, GoBuster, FAF, WFADS, poi c'è FerroBaxter, che è scritto in Rust, cioè, sono veramente dei tool molto molto efficienti, vorrei dire. E' efficaci anche, probabilmente. Perché comunque, diciamo che la maggior parte quando si fa, no, bug bounty, e si fa directory brute force, directory listing, cioè, la maggior parte... è brutto a dire, cioè, o hai una bella wordlist, bella potente, e la maggior parte dei bug hunter, ne conosco un paio. Chi c'è? Chi c'è lo zio? Benvenuto. Chi c'è, frate? Oh, grandissimo, frate. Grazie per la subscription o per il follow. Benvenuto nella nostra community. Sì, sì, comunque sì, Rocco, secondo me potremmo fare qualcosa di carino, ok? E niente, io... direi che possiamo partire. E quindi... partiamo, allora. Chiudiamo sta roba qua. Buttiamo giù un po' di cose, ok? E quello che facciamo è semplicemente veramente molto, molto basilare, molto easy. Allora, io ho già qui, spero si possa vedere il mio bellissimo crawler, che non ho scritto nulla, ok? E inizierei a scrivere qualcosa di molto, molto leggero, cioè molto easy per imparare a come utilizzare request, che cosa è request per fare richieste. E magari vedremo anche un po' di regex, vedremo, non lo so, vedremo, ecco, come magari filtrare output, queste robe qui. Quindi roba che magari potrebbe essere molto interessante, no? E allora, da che cosa partiamo? Poi ovviamente questo, cioè, lo stiamo facendo al momento, quindi magari ci sarà, ci possono essere degli errori o via dicendo. Quindi, cioè, ovviamente è tutta roba che si fa in live, è fresca, è proprio questo la bellezza. Allora, di solito, ovviamente penso che, insomma, la maggior parte di tutti voi conoscano come scrivere un codice, un codice in Python. E una delle librerie che mi piace di più, ok, è request, request, con request veramente potete fare di tutto. Come inizio a creare, cioè, come faccio una request, ok? Ipotizziamo, io voglio magari creare un URL, ok? E questo URL lo chiamo google.com, ok? In questo caso cosa succede? Prendiamoci la risposta, quindi noi attribuiamo google, prendiamoci la risposta, getResponse, getResponse, ce l'ho qua. E che cosa andiamo a utilizzare? Andiamo a utilizzare request.get, ah, eccolo qua, ce l'ho già assegnato. Che cosa succede? Andiamo a utilizzare il metodo get, ovviamente quando ho fatto una richiesta HTTP, sappiamo tutti i metodi che ci sono a disposizione. metto HTTP, potrei mettere HTTPS o quello che vogliamo, più l'URL. Quindi qui facciamo la request e poi andiamo a printare la nostra getResponse, molto semplicemente, ok? Una volta fatto questo, dovremo essere in grado di, spero il terminale si possa vedere, ok? Vediamo, allora. Eccolo qua. E vediamo che come risultato, spero si possa vedere, se no provo a ingrandire un po' di più. Ditemi se si vede il terminale, però penso di sì, dai, penso che si possa vedere. Vediamo, sì dai, sì, si vede abbastanza. Bene, ovviamente questa è la prima cosa interessante, cioè la prima cosa che ci viene in mente di fare, ok? Devo fare una request HTTP, una request get in Python, molto easy. Una cosa interessante che poi andiamo a vedere magari, ok, ma ogni volta devo stare qui ad andare a scrivere l'URL, beh, dopo vediamo magari come possiamo crearci una piccola funzione. Che cosa succede? Nel momento in cui io, ipotizziamo, dobbiamo crearci un nostro, non lo so, un nostro subdomain discovery, ok? Un tool, un crawler che ci trova il subdomain di google.com, ok? Ipotizziamo che google.com venga ovviamente, venga risolto e quindi ci dà 200 come response. Ma se io mettessi per esempio mail.google, teoricamente dovrebbe darci 200 come response nuovamente. Ma se andassi a mettere qualcosa che non esista, cioè per esempio mails, non qui, ma magari mails.com, ok? Vediamo che effettivamente va in errore. Perché? Perché abbiamo connection error. In questo caso mails.google.com non esiste. Che cosa facciamo qui? Non so se, insomma, si usa o se l'avete mai usato. Si usa un bel try, try, accept, try, exception. Insomma, è una cosa che in Python, ma non solo in Python, si usa molto frequentemente, ok? Quindi che cosa vado a dire? Dico prova, try, ok? E quando vado a dare l'accept, cosa succede? Vado a prendere, ecco, mi serve l'errore di prima. Vado a prendere questo bel errore, ok? Lo vado a incollare. E che cosa va a fare quando ipoteticamente trovo questo errore? Beh, le dico semplicemente di passare. Quindi va avanti. Quindi che cosa succede? Succede che questa volta qui, se vado a rilanciare il mio tool, non mi restituisce nulla. Questo è un piccolo metodo, cioè, molto easy, molto veloce, vorrei dire. Ma che tanti effettivamente mi hanno chiesto. Tanti mi scrivono in privato di dire come posso fare request o in questo modo, però ho errori. O molte volte, magari quando state accedendo a un sito in HTTPS, magari certificato, vi dà che il certificato è expired o che è insicuro. Molte volte si utilizza una funzione di request per andare ad accettare comunque queste condizioni, ok? E dovrebbe avercelo anche da qualche parte, vediamo. Allora, dovrebbe essere... Dovrebbe essere qui da qualche parte, vediamo. Dove avercelo qua. Questo l'ho salvato, ovviamente. Eccolo qua. Che è questo qua. Che è quello appunto per il discorso, ovviamente bisogna importare URLib3. Per l'asecure request, ok? In questo caso non abbiamo bisogno, però questa potrebbe essere molto importante. Vabbè, ce lo portiamo, possiamo importarcelo. Eccolo qua. Che in caso magari più avanti faremo bug bounty con questo bellissimo script, magari ci può ritornare utile. Ok? Bene. Ok. Ma cosa succede? Cioè, lo facciamo manualmente questa roba qua? Diciamo che è una somma un po'... Un po'... Ci rompe un po' le scatole, no? Quindi che cosa potrei fare? Allora, potrei fare principalmente due cose. Innanzitutto crearmi magari una funzione. Di questa roba qua. Potrei crearmi una roba di questo genere. Tipo def. Lo chiamiamo... Non lo so, decidete voi. Lo chiamiamo rec. Ok? E che cosa gli passiamo a questa funzione in Python? Spero che un po' di Python, insomma, lo mastichiamo. Se no, scrivete in chat. Assolutamente lo vediamo, eh. Quindi senza paura lo... Andiamo a vedere, eh. Quindi se avete problemi in Python o robe del genere. Ovviamente questa roba è molto basilare, quindi niente di difficile. Ma andiamo a... Se avete problemi in Python, lo dicendo, insomma, scrivete in chat. Quindi che cosa succede? Andiamo a crearci una bella funzione, ok? Questo la mettiamo qua. Di una funzione che appunto ci restituisca l'URL. Quindi andiamo a crearci una funzione che ci possa stampare. Cosa succede qui? Devo passare ogni volta l'URL, in questo caso, qui? O posso passarlo direttamente al terminale? Possiamo passarlo direttamente al terminale. Facendo che cosa? Andando a utilizzare... Quando il programma parte legge sempre il nome, non so se questa cosa la conoscete, del main, però penso magari possa essere molto interessante. No. E qui andiamo a specificare, almeno io uso questo metodo, quando voi andate a utilizzare qualcosa e lui non rispecchia, magari avete bisogno di due input, tre input, due argomenti. Qui vado a fare una stessa cosa di questo genere. Vado a fare una roba di questo genere. Vado a fare un try, ok? E qui ci metto... Ci posso mettere except... Lo posso mettere dopo, ok? Lo posso mettere qui. E qui che cosa andiamo a fare semplicemente? Come si prende un parametro da Python? Beh, ecco, vabbè, purtroppo qui ce l'ha già detto lui. Ok, si usa sysarg, ok? Quindi una cosa che andiamo a utilizzare, andiamo a importare anche la libreria, sys, ok? Una cosa interessante che molte volte non si fa, si strippa, cioè si prende magari, non lo so, ci sono dei spazi ovvi dicendo, o newline o quello che è, quindi si strippa l'argomento. E quando si va a scrivere l'except, l'error, ok? Si va a scrivere in questo modo. Index, error, non so se magari l'avete già visto. E qui che cosa vado a definire? Vado a definire come effettivamente si utilizza il mio script, ok? Quindi che cosa vado a fare? Vado a fare una roba di questo genere, non lo so, sto scrivendo al volo. Usage, due punti, ok? In questo caso. Qui per passare le variabili si usa Python percentuale s, ok? Qua possiamo scrivere url. E qui vado a utilizzare la stessa cosa, però al posto di 1 vado a scriverci 0. Perché 0? Perché andrà a prendere effettivamente il nome del programma, ok? Adesso andiamo a farlo. Una volta finito questo, ci esce per uscire con un comando di Python, si scrive sys exit e poi si mette un bel 1 alla fine. Che non è tra parentesi, ma è tra parentesi tonde, ok? Questa è una cosa molto interessante e molto easy, vorrei dire, ma che secondo me è molto interessante. Ogni volta non è che devo andare a scriverlo. Qui ovviamente non è expect, ma è accept. Ok. Index error. Proviamo così, dovrebbe funzionare. O se no, forse così. Eccolo qua, perfetto. Qui che cosa vado a dare? Qui vado a dirli, posso togliere pure questo url, ok? E questo url magari ce lo metto qua e li chiamo effettivamente la funzione. La funzione l'abbiamo chiamata rec. Ci scrivo un bel rec url. Molto easy. Ma non lo so, mi è venuta così al momento. Spero si possa vedere. Mettiamo un po' più piccolo, magari così si vede tutto il bellissimo grafico. Vediamo qua in chat. Questa è una cosa molto basilare. Sono 24 linee, ok? Che effettivamente ci possono fare di tutto. Vediamo salvandolo, sperando che non abbiamo degli errori. Vediamo che cosa succede. Allora, teoricamente se io... Url is not defined. Vediamo. Che cosa succede qua? Linea 24 Mi manca url da qualche parte. Dove l'ho messo? Aspetta Che sto leggendo qua? Def url No, ho speso di averlo messo però. Florea 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 E dato qui possiamo mettere una roba di questo genere Vediamo dove escevo l'errore Florea Allora Ci manca un url Qui abbiamo definito la nostra funzione Ok? Abbiamo la nostra funzione print Non penso che ci manca qualcos'altro però Però qua mi dà errore Che non definisce l'url Vediamo questa roba qua Però lo definisco qua url Perché non lo prende? If name Try 24 modulo Name url is not defined Ah forse perché dobbiamo ritornare No però teoricamente dovrebbe funzionare così Possiamo provare una roba di questo genere Vediamo Vediamo cosa possiamo fare Allora Dobbiamo togliere questo Url Ok così funziona Probabilmente c'è un problema nel mio main Che però Penso di averlo fatto giusto If name uguale main Try O mi sta sfuggendo qualcosa Se qualcuno di voi lo vede Ma mi pare che sia giusto Questo va qua Questo va così Exit 1 E qua ci va il main Sì esattamente Ah bravissimo Manca una Bravo frate Infatti dicevo Ma dove cavolo? Eccolo qua Esattamente L'url lo passiamo tramite riga di comando Dovebbe essere così Oh perfetto Grazie frate Sono le 6 e mezza Cosa succede? Quando utilizzo questo discorso del main Mi piace fare questa roba qua Mi piace passare l'argomento Ogni volta da riga di comando No? Quindi fare qualcosa di non statico Ma qualcosa di un po' più Di un po' più dinamico Quindi io posso fare una roba del genere Google.com Ok? E lui mi risponde con 200 Bene Questa è una cosa molto Basilare Molto easy Ma come posso fare Ipoteticamente Per crearmi un piccolo brute force Ok? Allora Come possiamo fare Per crearci un piccolo brute force? Cancelliamo un po' di robe Che magari non ci interessano E Vediamo come Utilizzare Allora Io qui ho una piccola Dovebbe essere questa Ovviamente questo È un brute force È un subdomain Numeration Appunto tramite dizionario Ora Ovviamente non è il metodo Cioè Potrebbe sicuramente essere un metodo Efficace Se avete una bella word list Se avete una word list Efficace Quindi Particolari Particolari domini Ovviamente Questo è un test di prova Però Magari Sicuramente online Ne trovate tantissimi Addirittura Una cosa molto interessante Quando si fa Subdomain numeration Sarebbe Quella È quella di Andare a A invertire Ok? Ci sono dei Che si chiamano Alteration Alterazioni C'è un bellissimo tool Che si chiama AltDNS O DNSgen Una roba del genere Che Una volta che voi fate Subdomain numeration Salvate in un file Questi 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 risultati L'url E andate a fare Delle permutazioni Ecco Forse questo è il termine corretto Andate a fare Delle permutazioni Dove Effettivamente Vi Vi creano Nel senso Magari c'è un blog Punto dev Vi crea Dev.blog Dev Trattino account Account Trattino dev E questo secondo me È un metodo Molto efficace Vi posso garantire Che potete trovare Veramente tante Ma tante cose Quindi sicuramente Non è un metodo Migliore Però insomma Per partire direi che Secondo me potrebbe essere Molto Molto interessante Allora che cosa succede Qui comunque abbiamo la nostra Abbiamo la nostra La nostra La nostra Funzione Chiamiamola request Ora che cosa vado a dare Vado a definire il target Ma possiamo utilizzare anche il main di prima Ok E vado a definire un target tipo Google.com E qui vado semplicemente a utilizzare Il mio brute force Che è questo Submain.txt Per andare a mettere Ok In modalità append Non in modalità prepend I vari sub domain E andare a vedere Se vengono risolte Quindi a vedere Se ci restituiscono Un Un 200 Come si fa in python Andiamo ad aprirci Un Il file Ok E si fa così Open Qui andiamo a definirli Il nostro file Che si chiama Submain.txt Ok Una volta che lo si apre Bisogna anche definire Quando lo aprite con open In che modalità V per scrivere R per Per leggerlo E li diamo come Word list file Ok Questo ci può andare più che bene Quindi apriamo Apriamo il file E una cosa interessante È che Nel momento in cui noi andiamo Ad aprire il file Se lo stampiamo Ci stampa tutto Noi vogliamo che ci stampi Una specie di Riga per riga Ok E come si fa per stamparlo Riga per riga Si fa in questo modo Possiamo fare un ciclo for Ok Una linea In Word list.file Che è il nostro file In questa In questa questione Il nostro file Di sub domain E qui che cosa andiamo a fare Andiamo a chiamare un Test O se no Chiamiamoci una Una funzione Quello che vogliamo Ci possiamo poter chiamare Word Ok Qui andiamo a fare una cosa Molto intelligente Di questo tipo Se no Proviamo a fare una roba Di questo genere Print Vediamo così se funziona Ok Vediamo così Vedete che effettivamente Ok Lui ci stampa Ci stampa tutto Ok Linea per linea Quello che vogliamo fare Però è andare ad aggiungerci Ok Google Quello che possiamo fare Quindi andare ad aggiungere Il nostro Il nostro sub domain Insomma Il nostro domino A cui vogliamo fare Enumeration Allora quello che vogliamo fare Allora quello che vogliamo fare è In questo caso Per esempio Scriviamo Test URL Ok E qua ci mettiamo Line Più Target Ok Andiamo a stamparci Il nostro target Questo è quello che voglio fare Vedere Vedete che Ah no Perdonatemi Qua bisogna stampare Test URL Eccolo qua Quindi che cosa succede Vedete qua E' una cosa molto interessante Lui ci stampa Effettivamente sia il sub domain Ok Quindi il nome Ma ci stampa anche Google Però qui c'è un problema Cos'è il discorso Ovviamente in Python Ma la maggior parte È come se ci fosse Un new line E quindi dobbiamo andare A inserire Una cosa che ci permetta Di andare a strippare La new line Ok E effettivamente andare a stampare Il file E cioè Perdonatemi Il sub domain Come mobile.google.com Mail.google.com Quindi che cosa posso fare Posso crearmi una nuova parola Ok Una nuova variabile Word E questa la chiamo Uso line.strip Strip va effettivamente A stripparci Che è la new line Quindi in questo caso Diventerà Test URL Non sarà più line Ma sarà Word Ok Qui Ci possiamo mettere Anche un bel punticino E qui ce ne andiamo a mettere target Questa volta Salvando Ok Criamo un po' su qua Se andiamo di nuovo A lanciare il nostro file Vediamo che effettivamente Questa cosa funziona Ok Ok Quindi in questo caso Vediamo che ci stampa perfettamente Magari Non lo so Magari per alcune cose Per alcuni Questa roba qui è roba Veramente easy Per alcuni è roba molto È molto basilare Però è interessante andare a capire Come andare a costruirci piano piano Qualsiasi cosa Insomma utilizzando Utilizzando Python Ora che cosa andiamo a fare Andiamo al posto di stamparlo Non ci interessa stamparlo Ma possiamo semplicemente Response Andiamo a utilizzare la nostra funzione di request Di che cosa in questo caso Di test url Che ci siamo appena andati a costruire qua sopra E qui andiamo a fare una roba di questo genere If response Quindi se abbiamo una risposta positiva Qui nel 200 Andiamo a fare un bel print del nostro subdomain Quindi Subdomain Facciamo una roba di questo genere Proprio per rimanere in tema Mettiamoci questa roba qua Ok Potrebbe essere qualcosa di interessante Più test url Che è qui sotto Senza sta roba qua Ok Vediamo se funziona La prossima volta mi preparo già i script Zio Brillo Test url Ah no Aspettatemi Non è test url Ma Però dovrebbe essere Cos Test If response dovrebbe stamparci vediamo non dovrebbe stamparci 200 ma dovrebbe stamparci i vari i vari subdomain allora online in wordlist vediamo un po' la chat cosa dice niente è apposto allora test url e word più il target più il target la response request test url questa la possiamo anche chiudere non ci interessa più ah mi sa che forse questo non ci interessa vediamo ok possiamo fare una roba di questo genere possiamo fare un bel return di questa roba qua oh eccolo qua bomba perfetto allora che cosa abbiamo fatto andiamo a salvare il nostro file ok e vedete come possiamo vedere che effettivamente quando lui va a a fare un bel crawler va a identificarci va a identifica beh possiamo la pure e lasciarlo andare poi in caso in caso vediamo quando quando finisce allora che cosa succede abbiamo creato la nostra funzione quindi non abbiamo bisogno più di una variabile ma in questo caso ci facciamo ci facciamo ritornare l'url in questo caso e in questo caso l'url che andremo a passare sarà in questo caso test url che ci siamo costruiti ok quindi qui abbiamo imparato a creare una funzione a utilizzare una funzione aprire un file leggere il file andare a leggere riga per riga e insomma questo potrebbe essere molto semplicemente un subdomain enumeration molto easy vorrei dire però insomma ci può stare mad1 please refrain from posting link sorry frate se vuoi pubblicamelo in privato poi lo vediamo oppure dimmi che link era ah mad ciao mad ciao mad eh mad grandissimo dottore quindi questo per esempio potrebbe essere un esempio di un banalissimo brute force di un subdomain enumeration ok molto semplicemente molto molto easy vorrei dire ok da qui a spostarci a fare un directory brute force ok è veramente una cosa molto ma molto easy come posso fare per esempio un brute force un directory brute force ovviamente ci serve un un sito oggi utilizziamo questo prossima volta mi organizzo meglio e vediamo vediamo che cosa possiamo organizzare con appunto possiamo fare qualcosa di bug bounty o vediamo vediamo che cosa possiamo fare posso utilizzare posso utilizzare anche in questo caso ovviamente dovrei avere già qualcosa del genere questa è veramente una lista insomma neanche tanto neanche tanto lunga di directory e andiamo a scriverselo magari possiamo fare una roba di questo genere stoppiamo questo ok qui possiamo andare a possiamo andare a fare una roba di questo genere se non ci se non ci interessa ok mettiamo così che cosa succede andiamo a crearci il nostro il nostro subdomain però diciamo che è molto simile quindi andiamo a fare un altro open possiamo anche modificare quello di prima effettivamente quindi non è che c'è tanta differenza andiamo sempre a leggere ok e in questo caso abbiamo me lo sposto un po' più di qua il nostro bootforce .txt ok ora al posto di google.com possiamo metterci un bellissimo localhost togliamo il nostro http perché l'abbiamo messo qui ecco ora questa è una cosa che si può vedere potete decidere voi cioè io di solito faccio una roba di questo genere non ho voglia di mettere di copiare il http o https e lo metto io direttamente nello script voi potete togliere sta roba qua dovete inserirlo quando quando lo inserite direttamente da riga di comando cioè insomma vabbè insomma robe robe un po' basilari potete fare insomma quello che quello che più vi aggrada questo possiamo fare as brute bruteforce file e qua semplicemente andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima forline in bruteforce file qui andiamo direttamente a fare lo strip ok word1 ok andiamo a fare direttamente lo strip ok perché magari così ci può tornare più strip eccolo qua così qui ci serve direttamente e qua andiamo a crearci di nuovo il nostro test url qui ovviamente stavolta sarà un bel target quindi non sarà più andremo a mettere in modalità append ma metteremo in modalità append quindi cosa farò ci farò un bel qua ci metterò un bel app e un bello slash e qui ci metterò il nostro la nostra parola word1 ok molto semplicemente qui che cosa andremo a fare response uguale andiamo a utilizzare la nostra funzione di request request in questo caso andiamo a testare un bel test url eccolo qua e qui andiamo sempre a fare if response uguale qua ci andiamo a scrivere un bel print subdomain potevamo già usare posto di subdomain possiamo scrivere tipo directory si credo mai potrebbe essere interessante una roba di questo genere ok vediamo se può funzionare no module 37 37 if you fail python may configure thinker prima facciamo una roba di questo genere vediamo 4tk module vediamo no module ah ma che lol chi è che l'ha importato sta roba ah no sorry oh eccolo qua per esempio questo funziona eccolo qua Rocco dov'era Rocco chiedeva questo per esempio sperando che sia che sia una cosa che sia che sia corretta che sia giusta per esempio andando a prendere un non lo so vediamo cosa ci può dare prendiamo questo bellissimo git che a med piace a nostra dove qua andiamo a prendere letteralmente un bel un bel git eccolo qua effettivamente si c'è il git vediamo qualcosa di carino oh abbiamo un bel php info eccolo qua oh bellissimo ecco qui ovviamente dopo cioè se volete fare una roba di questo genere potete fare non lo so del tipo http potete fare una roba di questo genere o non lo so cioè se volete proprio fare le cose fatte bene e questo potrebbe essere veramente un un piccolo un piccolo io una volta lo feci in lo feci in bash e c'hai capito era molto era molto interessante molto veloce cioè molto easy ovviamente cioè niente di niente di così importante niente di così difficile però però che cioè mi ha dato grande soddisfazioni ovviamente non è una cosa che che ho usato perché sicuramente ci sono tool molto molto migliori vorrei dire però però perché non farlo cioè perché perché non farlo perché non farlo da sé ok allora aspettate che cambio un po' di musica vediamo qua se è lacciata è great sì beh diciamo che alla fine rocco c'è va verso cose veramente molto molto easy molto veramente basilari che però secondo me possono tornare possono tornare utili adesso questa è veramente una prova tu sai insomma ma adesso vediamo un attimo mi organizzo vediamo se è una cosa che può veramente interessare e andiamo a scriverci proprio i vari scanner di brute force non lo so ci scriviamo veramente un scanner molto easy di xss o di lfi ce la roba qua vediamo se magari viene fuori qualcosa di carino capito cioè poi andremo il nostro scanner poi ci farà tutto poi mettiamo tutto insieme da un dal subdomain enumeration ci salviamo i domini ok a me piace il minimo poco codice che fa cosa si hai capito ci scriviamo un bel subdomain enumeration prendiamo ecco una cosa interessante prendiamo i domini li salviamo in un file quindi stessa cosa quando aprite un file al posto di scriverlo in modalità lettura multitread potentissimo si è vero esattamente questo sicuramente sarà da fare mad potremmo potremmo fare un thread un multitread ecco questo sicuramente sarà molto interessante potremmo fare magari ecco capito che per ogni per ogni subdomain che lui fa capito lui inizia a fare già un brute force ecco questa è una cosa interessante se si vuole fare una roba tipo recursiva ma adesso sicuramente ci sono tanti tool io non lo so come magari fa gobuster o faffo o altre storie tipo dear search però io cosa farei se dovessi fare una roba recursiva metterei una cosa nested qui quindi farei un altro farei un altro un altro for per ogni per ogni directory che lui trova gli farei fare gli lancerai di nuovo la word list diciamo che è un po' non dico che un po' no sense però non lo so ce la possiamo studiare bene possiamo farci veramente un bel un bel brute force coi contro ecco coi contro cavoli insomma buttiamola in questo caso dai bene questo è veramente qualcosa di veramente molto easy molto basilare ok e niente quello che potremmo andare a fare magari adesso cosa potrebbe essere potrebbe essere cosa potremmo fare potremmo fare magari il discorso di andare a leggere le le request o potremmo andare magari a fare qualcosa del tipo una roba di andare a prendere magari file o tutti gli href questo potrebbe essere interessante magari no questo potrebbe essere molto interessante sicuramente potrebbe essere molto 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 intuitivo sta cosa qua ecco questo sicuramente potrebbe essere vediamo di farlo magari ecco vediamo qua vediamo se ci riusciamo qui abbiamo un po' di file sì per concludere in bellezza questa mini live boh non so per il resto comunque spero che si possa sentire certo qualsiasi qualsiasi header lo crei come dizionario lo passi alla request ecco sì adesso passere anche un user agent custom con uno script così sì assolutamente sì certo sì 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 ma guarda io ti guarda ti faccio c'è una bellissima aspetta te lo trovo c'è una bellissima che tu puoi utilizzare adesso te lo trovo che è spettacolare che è veramente un sito che io uso veramente quasi quasi sempre proprio per andare a imparare a fare request con python aspetta vediamo come si chiama dobbia chiamarsi una roba di questo genere request for humans una roba del genere in python eccolo qua questo qua questo guardalo questo è bellissimo dal mio punto di vista ed è molto interessante ovviamente c'è tante cose insomma uno se le perde uno se le dimentica però se avete bisogno c'è questo questo secondo me è spaziale non so se lo conoscevate prima ma vedi ecco per esempio con request quando ti importi request tu puoi dire anche il discorso di authentication qui hai il discorso dei reader ok qui in questo caso puoi leggerti puoi leggerti i tuoi i tuoi letter che insomma che arriva che arriva nella response o l'encoding text e via dicendo questo è molto bello questo sito non so se io posso mettere il chat roba perché la metto come pentestime il simple io posso oh io posso farlo voi no aia scusate no scherzo vabbè era una battuta ecco quello che potremmo fare è magari una cosa interessante potremmo fare una cosa di questo genere vediamo che cosa potremmo fare potremmo fare che magari lui ci legga ma anche importiamoci anche le regex andiamo a tirarci giù magari tutte le tutte le word le word le 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 attributi potrebbe essere interessante sta cosa proviamoci questo vabbè o comunque ce lo possiamo anche mettere non è importante però quello che quello che vorrei fare è fare una roba di questo genere allora io diciamo che ho un il mio target ok vado a fare una roba di questo genere vado a utilizzare request per fare per fare la mia per fare la mia request ok e poi che cosa potrei fare potrei andare a utilizzare regex request di di target vediamo se viene fuori potrei andare a fare tipo href url re qua si utilizza di solito si utilizza find o find all che è una funzione appunto per andare a fare regex e per andare a trovare che cosa che cosa è che voglio fare nel senso ho fatto brute force ho fatto subdomain enumeration ho fatto directory brute force quindi diciamo che è un bel po' di materiale un bel po' di link un bel po' di un bel po' di pagine quello che mi interesserebbe andare a fare magari è andare a beccare ok il codice sorgente andare a fare un bel po' di regex per andare a beccarmi tutti gli href ok dei link eh si grazie aspetta adesso cerco di inventarmi sta regex allora come prima cosa qui sicuramente mi vado a mettere una roba di questo genere che è tipo response punto content ok e qui dobbiamo andarci a creare la nostra regex allora per andare a crearci la nostra regex allora di solito ci sono tantissime tantissime tecniche io ne conosco una magari qualcuno di voi ne può ne può conoscere ne può conoscere un'altra ok la tecnica che conosco io è questa o insomma vi faccio vi faccio vi faccio vedere io vado a definire vado a definire innanzitutto che voglio href ok come come parametro e lo voglio negli apici ok ma voglio prendere solo cioè non voglio prendere il tag di href ma voglio prendere tutto quello ok che c'è fra href comunque c'è un bellissimo sito per imparare la regex adesso ve lo ve lo becco e voglio andare a strippare e quindi prendere solo il contenuto di href e quindi si dovrebbe fare in questo modo in questo caso qui c'è un problema se non sbaglio cioè vado un po' memoria vado un po' magari correggetemi i chat lui che cosa va a fare va a beccare io ho aperto quindi l'apice lui andrebbe a beccare tutti gli apici ok fino all'ultimo apice della 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 pagina quindi io devo andare a a dirgli di volere esclusivamente l'apice quello successivo e se non sbaglio bisogna in questo modo ma dopo lo possiamo provare però secondo me c'è un bellissimo regex python find href no href no c'è un bellissimo sito ma mi sa che è tipo v3 school questo qua ecco questo è molto questo è molto molto carino dove eccole queste sono veramente sono molto 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 belle dove uno può veramente imparare tutte le tutte le regex del caso tutte le cose che gli possono servire e utilizzare le regex ad oggi penso che sia veramente favoloso se uno lo deve sapere a memoria beh penso che penso che nessuno lo sape a memoria o comunque sicuramente va ad aiutarsi con una roba del genere quindi proviamo a fare una roba di questo genere proviamo a fare print ah ecco questa è una cosa questa è una cosa molto interessante il discorso di tradurre da byte a string se non sbaglio bisogna farlo con una roba di questo genere con decode solo che non me lo ricordo più decode utf 8 python eccolo qua questa roba eccolo qua questa roba qua perché da python 3 a python 2 da python 2 a python 3 è cambiata è cambiata questa roba qua quindi dovrebbe essere una roba di questo genere e non dovrebbe darvi più errore perché giustamente lui lo interpreta come byte e noi andiamo a tradurlo in stringa teoricamente dovrebbe essere una cosa di questo genere ok però lui ci stampa ci stampa tutto vuol dire che c'è qualche errore vuol dire che la regex non funzia io vado a prendermi tutto href session script 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 src forse no così no lui va a beccarsi tutto tutto l'href eh mi sa che con le parentesi devi indicare il match eh si mad però pensavo di averlo fatto perché vedi io qui ho messo la parentesi e becco tutto quello che c'è ad href però eh io so di solito che si fa così ma questo perché l'ho imparato a memoria non peraltro e qui vado a chiudere e quindi io becco tutto quello che c'è dentro da href ok e però dovrebbe funzionare sta merda no non funzia vediamo beh ce lo possiamo andare a costruire single character single special start with href zero one concurrency però vi dico di trovarmelo tutto no beh o potremmo usare questo ipoteticamente che start start con effettivamente con href eh devi prima stampare href sì però eh ma secondo me è giusto così perché vedi io trovo ah scusami ma no discovery content madonna hai ragione href zio birillone hai ragione grazie mad oh eccolo qua vedi che funzia oh grazie dottore come sempre lei è presente grazie per avermi eccolo qua questo per esempio è un classico un classico esempio di come io posso andare a tirarmi giù eh tutti tutti le href di di un sito che è di un subdomain che magari ho trovato da lì che cosa potrei andare a fare da lì potrei andare a me li salvo sicuramente da qualche parte e poi me li vado me li vado a buttare non lo so in un file me li salvo e da lì posso farci analisi ecco una cosa molto interessante che cosa che cosa ho fatto qua dovrebbe esserci un bellissimo script che feci un po' di tempo fa magari qualcuno potrebbe piacere ma non so se la musica si sente alta no se nessuno non dà fastidio avevo fatto una bellissima però l'avevo fatto in bash forse questo nope ah forse questo qua bug bounty script che magari questo a 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 un dominio un domain le si tirava fuori tutti tutti i vari script eccoli qua con le varie regex ovviamente cioè insomma te le vai le sono andate costruire le ho trovate non è che me le sono inventate io di sana pianta e ti dico questo veramente mi ha dato buone buoni risultati ok veramente uno scritto molto molto semplice molto banale però che mi ha dato veramente molto c'è molto da fare c'è molto molte molte soddisfazioni quello che posso andare a fare qui è hrelli stasso andare a fare una roba di questo genere possiamo fare una roba di questo genere link in a no andiamo a fare una roba di questo genere possiamo andare a crearci buono lo so adesso mi sta mi sta un po venendo un po il dubbio di che cosa potremmo andare a fare potremmo andare a crearci un un tool che ci può andare semplicemente a a farci una roba di questo genere possiamo farsi tirarsi giù gli href e poi ce li andiamo a mettere in semplicemente a tirare fuori javascript anche questo potrebbe essere un esempio per esempio fondamentalmente questo si potrebbe essere un bellissimo esempio vediamo un po di luce siamo qua siamo anche abbiamo tutto pronto qua la chat sembra a posto non so ditemi di che cosa è ditemi che cosa è una cosa che vi può interessare se c'è veramente questa è così c'è veramente venuta fuori così al nulla c'è proprio in live che però se è una cosa che può veramente stimolare un po un po di voi potremmo potremmo continuare ma ovvio prossima volta magari mi preparo qualcosa li andiamo a vedere insieme e quindi possiamo possiamo sicuramente andare a a giocare un po possiamo andare a giocare un po un po meglio vediamo un po di musica andiamo a cambiare un po di musichetta vediamo cosa possiamo mettere questo qualcosa di strong che possa piacere a mad ecco questa mad sicuramente è senza è senza roba allora va come siamo messi switch bene dai dai 9 spettatori dai ci sta dai giustamente il sabato sera beh dai penso che comunque questa roba qui possa possa essere interessante dai sicuramente secondo me cioè se la sviluppiamo bene sono sicuro che può diventare qualcosa di molto 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 bello qualcosa che volevo farvi vedere c'è nel senso news ecco quello che volevo dire è che usciranno dei video probabilmente magari facendo un po di pausa usciranno dei video di questi però li metto su su pentesimo e simple di alcuni di alcuni lab che ho creato e che abbiamo fatto una collaborazione con paunix molto belli devo dirvi la verità molto belli perché siamo andati a crearci delle applicazioni in node.js e innanzitutto se non sapete cos'è paunix andate a arca miseriaccia chi è che si ricorda adesso la password speriamo che sia questa nope vediamo ovviamente io non mi salvo mai le password bravo re aspetta oh eccola qua hanno attivato la versione la versione la versione premium ok e nei lab ritirati ci sono due bellissimi lab o tre se non sbaglio che si chiamano js insecurity questi sono veramente dei lab molto belli farà uscire i video penso fine settimana o comunque prossima settimana dove andiamo a analizzare delle del codice che è scritto in node.js per andare a trovare effettivamente delle vulnerabilità quindi andando a fare un minimo di code review andando a vedere a come esploitare ipoteticamente la vulnerabilità e siccome ci sono delle bellissime vulnerabilità tra cui magari prototype pollution che piace tanto al nostro che piace tanto al nostro med o magari abbiamo command injection quella è una cosa che magari potrete trovare un po' ovunque e poi una cosa interessante che magari su node.js non si trova tanto che potrebbe essere l'use comparison l'use comparison in php penso che sia una cosa che insomma tutti conoscono il type juggling ma in in php in node.js ci sono alcuni articoli però non ne ho visti così tanti salve dottore buonasera dottor donato e quindi e quindi niente farò uscire questi video sperando che possono essere possono piacere insomma sicuramente saranno spero che saranno apprezzati niente quello che quello che posso quello che posso dire cos'è questa era semplicemente una live di prova ok per vedere un attimo come funziona ma io penso che domanda ciao zio ciao uomo grazie per essere anche qui mi segui ovunque dottore sì penso di sì penso che tu possa hai la sub amazon sì da lunedì penso che tu possa farlo ok lunedì c'è la live quella quella generale dove ci sono ci sono un po' tutti ok e penso che tu da lunedì possa tu possa effettivamente ci sarà il pulsante della della sub e quindi penso che tu dopo a posto possa utilizzare il tuo bellissimo amazon lo uso anch'io cioè insomma anch'io con con altri canali e robe del genere gratis quindi perché non farlo insomma ovviamente andiamo sempre a a sostenere queste nostre piccole community e niente vabbè dai è stata veramente una prova molto easy molto molto basilare però spero insomma che vi sia piaciuta dottor rocco se sei in linea dimmi dimmi se ti è piaciuta ovviamente cioè questa è una roba che è venuta dal live cioè così improvvisata quindi sicuramente la prossima volta mi preparerò meglio preparerò già qualcosa ecco piuttosto di scrivere codice magari in live che insomma uno può stare qui tre ore a trovare un bug ma cioè il discorso è molto semplicemente nel senso che andando a fare un po' di una mappa concettuale questo ce la facciamo la prossima volta quindi di fare una subdomain numeration discovery utilizzeremo ecco il discorso del multitrading che secondo me è veramente molto importante e e poi basta cioè nel senso andiamo avanti così ci facciamo i nostri i nostri le nostre funzioni separate dove andremo a utilizzare non lo so cavolo non lo so ci inventiamo come trovare come essere di xss e penso che potremo utilizzare questo secondo me cioè ecco quello che magari sarebbe interessante da fare che faremo andremo a sviluppare il tutto per essere per essere molto dinamico cioè non per essere statico ma per essere molto dinamico quindi una volta che sviluppiamo lo scanner per per esempio per il mutilidi possiamo farlo per qualsiasi sito e quindi magari perché non un domani posso posso crearmi una bella una mia bella automation mi crea un bellissimo mio botto in su telegram posso lanciarlo mi metto su una mia una mia piccola vps perché non farlo serve se uno ne sa poco quando scrivi live il codice potrebbe potrebbe servire anche a imparare direttamente perché mentre scrivi lo commenti sicuramente sì ecco sì potremmo farlo sì volentieri sì 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 molto volentieri zio se a te se è una cosa che può interessare assolutamente molto volentieri lo scrivo sì ecco quello che potremmo quello che posso fare la prossima volta me li scrivo prima e poi li riscriviamo in live ecco così hai capito non perdo non perdo mezz'ora a cercare una roba tipo una regex è meglio hai capito che la scrivo me la scrivo da parte e poi la commentiamo insieme questo sì potremmo farlo assolutamente sì bene io non so se c'è qualcuno dei ragazzi ma spero che spero che sicuramente questa roba qui possa essere interessante io dal punto di vista non penso di avere problemi non so se ho già fatto la transition aspetta beh in caso se ho già fatto la transition eccola qua ok e niente ragazzi è stato veramente molto breve come live anche un po' un po' così cioè la prossima volta veramente mi preparo qualcosa di di meglio anche di più magari di più interessante magari andiamo anche deep su qualcosa tipo multi-threading che secondo me sicuramente sarà molto molto interessante e niente iscrivete a security chart se non l'avete fatto ancora ovviamente penso che sia una delle commenti non perché ne faccio parte ma ne facevo parte ancora prima che security chart diventasse security chart ma è veramente un bellissimo canale dove veramente si possono trovare tantissime informazioni ma per la grande quantità di persone e per la grande varietà di persone dove si possono trovare dalla parte blue team alla parte offensive che possono andare sia dal networking dal canale di Rocco ok che è molto 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 bravo nella parte networking a me piace anche se io sono un amante del web però il network è veramente una cosa molto importante è veramente indispensabile se si vuole lavorare in questo in questo settore ho gente che fa reteaming che fa certificazioni quindi secondo me security chart ha veramente il potenziale e sta diventando veramente una cosa molto affermata almeno in quel piccolo in quello della della piccola comunità italiana che possa essere l'hacking il pentesting o della security in generale e niente che cosa posso dire grazie a te Aleb ho imparato un po' di cose grandissime tutti niente grazie a te a frate era veramente così una live hai capito un po' di passatempo hai capito per di sabato sera quindi però sicuramente durante la settimana faremo delle live più lunghe comunque sono quasi un'ora e mezza e quindi e niente quello che posso dire io è grazie ragazzi è stato molto bello avervi qua e ci vediamo ci vediamo la prossima quando sarà la prossima non lo so quando vedrò no scherzo ci vediamo yes allora domani ecco forse domani c'è l'appuntamento con Rocco se non sbaglio e poi lunedì c'è la live quella generale che secondo me è molto interessante ci saranno sicuramente persone molto più serie di me a spiegarvi a spiegarvi il progetto di security chart che cosa security chart vuole fare e che cosa vuole portare e quindi niente io vi ringrazio con questa bellissima musichetta e vi lascio vi lascio alla fine non so neanche se c'è l'ending però vediamo di metterlo ciao bella gente una buona serata ci vediamo a cs ciao Grazie a tutti.